Fino in fondo, Acea lo voleva quel contratto, non voleva passare per la gara, glielo demmo, io lo dico, ritengo uno degli errori che fece l'amministrazione di cui ho fatto parte, quindi se adesso, noi adesso guardate il piano di rientro, poi adesso tutto la parola Alberto, il piano di rientro noi dovremmo come Partito Democratico cercare di farlo leggere a tutte i cittadini di Roma, adesso leggerlo tutto è complicato, ma stiamo lavorando anche in funzione della conferenza programmatica che il PD di Roma farà a ottobre, ad un piccolo documento politico molto di sintesi, da facciare il più possibile, perché quel piano di rientro ha dentro delle cifre molto importanti per la discussione pubblica nella città, Francesco D'Ausilio ce ne ha ricordate qualcune, noi abbiamo fatto il piano di rientro, e questa è una buona scelta che ha fatto il Comune, prendendo riferimento ai costi standard, che sono i costi di riferimento che a livello nazionale, sulla base delle elaborazioni statistiche che si fanno a livello nazionale in modo anche condiviso con l'ANCE e con le regioni, in questi anni abbiamo elaborato, perché finalmente oggi, quando io facevo l'amministratore e la CIA mi diceva che per gestire un chilometro lineale di illuminazione pubblica il costo è, questo invento, 100 mila euro, io amministratore di Roma non è che avevo una banca dati che mi diceva che invece la media nazionale è 60 mila euro, io potevo dire, ma tu perché costi il 40% in più? Oggi invece questi dati ci sono, grazie a un impegno riformista che in questi anni si è sviluppato dal governo e dal Parlamento, quindi il piano di rientro di Roma è fatto sui costi fabbrici e ogni standard e purtroppo per noi siamo fuori linea a Roma su moltissimi servizi, siamo fuori linea di gran lunga ma di brutto sull'AMA, sui servizi di raccolta e spazzamento e trattamento, siamo fuori di 90 milioni di euro, sull'Atac, sul trasporto pubblico locale siamo fuori di 60 milioni di euro, sull'illuminazione pubblica con tratto più piccolo siamo fuori di meno, ma in percentuale di più degli altri, è quello che in percentuale soffre di più e naturalmente il piano di rientro disegna da qui a tre anni un percorso in cui Roma deve tornare verso quei benchmark e il governo ci riconoscerà, e questo è il punto importante del piano di rientro, che rispetto ai benchmark, cioè ai riferimenti nazionali, a Roma sarà dato un po' di più per tenere conto dei costi della capitale, perché Roma subisce dei costi a carico della finanza comunale o a carico dei budget delle aziende di servizio pubblico locale che derivano dalle funzioni nazionali che a Roma, quindi noi dovremo fare l'efficientamento, ma poi ci sarà anche riconosciuto, e questo è anche uno degli elementi importanti del piano di rientro, quello che ci tocca perché facciamo anche funzioni nazionali, però l'efficientamento va fatto e quindi adesso vediamo se Alberto ci può dire in quali forme anche, dato che lui ha fatto il suo scorso intervento tutto sull'efficienza, in quali forme anche nel settore dell'illuminazione pubblica possiamo avere un po' più di efficienza. Allora, intanto credo che il punto lo centrasse tu Marco, per garantire costi efficienti occorre una buona regolazione, cioè occorre che ci sia un regolatore che sia in grado di disporre delle informazioni di merito almeno quanto le imprese, almeno quanto le imprese. Allora, sull'illuminazione pubblica è necessario entrare nel merito e chiarirci meglio perché i dati di cui dispone Acea sono diversi, noi forniamo energia elettrica a un costo a kilowattore per 17,8 centesimi che è al di sotto di quello che raccomanda l'autorità dell'energia elettrica e il gas. Il tema del costo dell'illuminazione pubblica a Roma è legato all'inefficienza dell'impianto su cui occorre un investimento importante, cioè a Roma si consuma tanta energia per illuminare, se ne potrebbe consumare molto meno perché oggi questo è un settore dove l'innovazione tecnologica può fare molto, se concorderemo di fare gli adeguati piani di investimento questo costo complessivo si potrà ridurre di molto, il consumo energetico può essere abbattuto anche del 50%, Roma spende grosso modo 30 milioni di euro l'anno per il consumo energetico, per l'impianto di pubblica illuminazione, su questo si può fare un'operazione di efficientamento win-win, dove l'azienda che investe, investe e lo fa nell'interesse di riduzione di costi per generare efficienza e di quell'efficienza se ne avvantaggia l'azienda e l'utenza che in definitiva sostiene un costo più basso. Sull'ambiente e l'impiantistica, intanto Acea, lo voglio dire perché ha in corso la gara per continuare a investire sull'impianto di San Vittore altri circa 60 milioni di euro grossomodo, adesso la gara è per 56 ma alla fine ne investeremo circa 60 e per aumentare la capacità produttiva dell'impianto di San Vittore. Abbiamo realizzato impianti per la frazione organica, già abbiamo su questo un track record di successo, noi sappiamo fare questo, noi sappiamo progettare, costruire e gestire impianti per il trattamento. Naturalmente non si tratta di realizzare e ampliare solo termovalorizzatori, si tratta di arricchire la capacità di gestione della frazione organica costruendo anche e realizzando impianti di biodigestione anaerobica, ne stiamo costruendo uno in Umbria così adesso, è in corso la gara, potremmo farlo anche nel Lazio, certamente potremmo farlo, quanti ne servono? E certo 250 milioni di euro nei prossimi 5 anni possono essere pochi, intanto sono un impegno che Acea non è merito mio, questa è una scelta del piano industriale che già c'è, possono anche essere eventualmente aumentati, però intanto è già una scelta importante che Acea ha fatto in questo settore e che può ulteriormente rafforzare, se ce ne saranno le condizioni, farlo insieme ad altri? Certo, naturalmente noi siamo un operatore che opera in questo mercato, guarderemo con interesse su questo aspetto le forme di collaborazione possibili con gli altri operatori, a partire naturalmente da quello che sappiamo fare noi e abbiamo la presunzione di farlo bene e continuare a farlo, sempre di più è meglio nel Lazio e troveremo le forme di collaborazione possibili, eventualmente anche con AMA, ma anche con altri operatori, a determinate condizioni che sono sempre quelle di fare investimenti che contribuiscano certo a risolvere la criticità della gestione del ciclo dei rifiuti, ma al tempo stesso creino valore, cioè siano investimenti efficienti, quindi finanziabili, in grado di generare valore nel tempo e quindi che possano essere gestiti oggi e nel tempo in maniera efficiente e continuare a creare valore, quindi per restituire il debito che serve a realizzarli, ma sulla base di una prospettiva di gestione efficiente nel tempo e queste naturalmente sono condizioni complesse alle quali ACEA non si sottrarrà, contribuirà sicuramente anche col Comune, con la Regione, perché su questo è un ruolo importantissimo, ce l'ha la Regione e farà certamente la sua parte insieme agli operatori e ai soggetti istituzionali che possono dare un contributo decisivo in questo settore. Alberto, cosa dovrebbe fare la Regione nel quadro di regolamentazione, nel quadro regolatorio locale per rendere la tua azienda, che è un'azienda quotata in borsa, quindi può decidere non soltanto in base alla politica, ma deve decidere in base alla convenienza economica, cosa dovrebbe fare la Regione Lazio per permettere alla società ACEA di prendere decisioni sia in campo idrico, sia in campo ambientale, che rafforzino la potenzialità degli investimenti? Intanto ACEA ha un piano di investimenti nei prossimi 5 anni di 2 miliardi e 400 milioni di euro, di cui oltre un miliardo è solo su Roma, quindi c'è già un impegno importante che sicuramente può essere rafforzato. Sull'idrico la Regione può fare una buona legge regionale che riorganizzi il servizio idrico su base regionale e io penso che potrebbe ACEA ragionevolmente concorrere a mettere a disposizione l'esperienza, la capacità di gestione che ha dimostrato a Roma e fuori da Roma anche in altri territori del Lazio, questo naturalmente se ci saranno le condizioni di contesto di regolazione per poterlo fare nella legittimità, come è evidente, così come può fare molto nella parte di impiantistica dei rifiuti, perché la Regione è il soggetto insieme ai comuni che autorizza gli impianti, quindi ha un ruolo molto rilevante nel selezionare gli investimenti e decidere se questi investimenti possono essere realizzati oppure no, quindi se un'autorizzazione viene concessa in sei mesi è un conto, se viene concessa in tre anni è un altro e di fronte alla crisi che c'è nel Lazio, per esempio dotarsi di una struttura in grado di autorizzare, ovviamente valutando nel merito e correggendo quello che c'è da correggere nei progetti degli operatori che propongono gli investimenti, ma di farlo presto e questo farebbe la differenza per esempio nei rifiuti, al di là del fatto che la Regione per ragioni straordinarie in parte è un operatore del settore, forse su questo se risolvesse questa questione aiuterebbe il mercato. Grazie Alberto, io direi a questo punto che sfruttiamo fino in fondo la presenza del professore De Vincenti per fargli fare l'ultimo intervento. Claudio in questi anni ha gestito dal tavolo del Ministero dell'Esviluppo Economico tutte le più grandi crisi industriali italiane, non è stato un lavoro facile e ogni tanto infatti si è anche depresso. Io vorrei dargli la parola per un'altra cosa, noi nel PD romano in questa conferenza che vogliamo fare a ottobre vorremmo anche andare a guardare ovviamente anche le crisi perché le crisi le dobbiamo gestire, dobbiamo salvaguardare il salvaguardabile, il patrimonio industriale, salvaguardare il reddito dei lavoratori tramite tutti gli strumenti di ammortizzazione sociale che si possono mettere in campo, ma noi vorremmo anche iniziare a guardare con più attenzione anche laddove dalla crisi si è usciti o quei settori, quei comparti, quei distretti, quei pezzi di economia che nonostante la crisi rappresentano un po' la scommessa per il futuro, da dove ripartire per il dopo crisi. Quindi io chiedo più al professor De Vincenti che al vice ministro De Vincenti, ci puoi raccontare dal tuo punto di vista e non facendoti prendere troppo dalla depressione, come usciamo dalla crisi, da dove ripartiamo nei settori industriali, nei settori di servizio, nel know-how italiano, nelle capacità industriali e tecnologiche dell'Italia, dove tu vedi dal tuo punto d'osservazione i pezzi di paese da cui si può ripartire? Intanto partirei dai servizi pubblici locali e allora mi ha colpito molto il ragionamento che ha fatto d'ausilio prima e che io condivido molto della distinzione di ruoli tra politica e gestione imprenditoriale delle imprese. E credo che Roma abbia pagato negli anni passati questa mancata distinzione di ruoli, forse in modo particolarmente vistoso, ma non solo, sul versante della gestione dei rifiuti. E io vi confesso che tuttora sono preoccupato su questo versante, lo dico da cittadino romano. E allora se ci chiediamo come il paese si riprende, il paese si riprende prima di tutto se in tutti i suoi gangli vitali riprende la voglia di fare bene. Nei servizi pubblici locali questo passa, per esempio, per riprendere in mano la capacità di distinguere i ruoli e di fare in modo che l'esperienza imprenditoriale di ACEA sia di esempio anche ad altre imprese. E poniamoci i problemi che diceva d'ausilio, per esempio poniamoci i problemi se possiamo migliorare il servizio di trasporto, per esempio cominciando a riprendere in mano un'esperienza che fu fatta peraltro in passato, Marco lo ricorda bene, di mettere a gara alcuni lotti di linee. Vediamo un po' se c'è qualcuno che serve meglio i romani a un prezzo più basso. Questa è crescita, guardate, questo è PIL, perché è servizi in più e i servizi fanno parte del PIL, costi più bassi e questo consente al comune di Roma di rientrare dal disavanzo e magari di fare investimenti che fanno PIL. e questo discorso adesso sto facendo, sarebbe lungo, lasciamo perdere, però questo io ci tengo a sottolinearlo, qui ognuno di noi deve rimboccarsi le maniche, poi dirò qualcosa sulla politica economica nazionale, non è che voglio scapolare... grazie per la camera